Noi dobbiamo assolutamente uscire di qui. Ho un'idea. Al mio tre ci muoviamo. No. Uno. No. Due. No, 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 no. Tre! Te l'avevo detto che non era una bella idea. Almeno la testa è fuori. Salve, professor Cattivius. Le ha mai detto nessuno che ha delle belle scarpe? Stupidini. Non si va da nessuna parte. Ne contro te il film La Vendetta del Signore S. Da venerdì 17 gennaio al cinema.